Si accendono nuovamente i riflettori sull'emergenza rifiuti nel Materano, a sollevare la questione il consigliere Paolo Castelluccio di PDL Forza Italia. Come avevo già previsto ad agosto, dice Castelluccio, l'emergenza rifiuti per il Materano si è ripresentata, costringendo l'aggiunta regionale all'ennesimo provvedimento tampone. Per Castelluccio il governo regionale continua a brancolare nel buio, da una parte le minacce di commissariamento ad acta per i comuni che non riescono ad incrementare la quota di differenziata, dall'altra il continuo scaricare le responsabilità sui cittadini lucani che per l'assessore Berlinguer sono indisciplinati. La questione centrale da affrontare, a parere del consigliere dell'opposizione, è l'adeguamento del piano regionale di gestione dei rifiuti, in modo da autorizzare nuovi impianti di smaltimento, trattamento e di recupero. Come prima cosa, per Castelluccio occorre monitorare il funzionamento della discarica di pisticci, poi bisogna decidere in merito le discariche del Borgo Lamartelle e di Tricarico.